Musica 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 Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Poki e oggi siamo tornati qui su Crash Team Racing Nella scorsa parte abbiamo fatto La piramide Papu Baila come il Papu va Cittazione a parte Oggi andiamo avanti No, ok Oh, ah ecco C'è il Canyon Di Matte, eh Di Dingo C'è il Canyon di Matte, eh Dingo E tu parti in prima posizione Dingo Dail Ah 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 Veramente Ah no aspetta Dingo Daila Quattro Dai No, dannazione Non l'ho preso Ma che sono stati missili comprati dai Comprati dai cinesi Sei spacciato Non ho ancora detto Non ho ancora detto eh Forza qua Forza Forza, fai il sedere all'omino Bravo Bene Bene, posso poi prendersi la comora va Eh, posso poi prendersi la comora Intanto Intanto avevo la spinta da questa parte Ok Stavo anche finendo vicino alla conchiglia che lo tolava Meno male che lo scudo mi ha protetto No 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 Non ho fatto D'attento Fatto Beh è stato facile Eh Adesso non ho preso La conchiglia Adesso anche Cortex aggiunge Alla vista degli Eterni Secondo e Terzo Mi viene se Io godò troppo ogni volta che Cortex Arriva secondo o terzo Papu stanco di vedere Lumaconi guidare piano Papu correre veloce E stendere tutti i piloti E provare a tutti Essere grande pilota Papu tanto veloce Non vedere piste Se non vedi le piste Se non vedi le piste Allora sei cieco No vabbè fate gli scherzi Io direi che per questa parte può essere Allora bene ragazzi Io direi che per questa parte può essere tutto Spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo in un prossimo video Ciao